Grazie, oggi vi voglio parlare di mini toy nani, non sono dei nani italiani, premetto, sono dei nanini piccolissimi, sono i nani più piccoli che trovate in Italia, arrivano dai 700, parliamo di peso adulto, se mi lasciano fare il video perché in genere mi morono nel telefono, dai 700, no stai là, dai 700, hai 900 grammi peso di adulto, quindi il coniglio cresce fino al boom della crescita fino al quarto mese, da adulto arrivano a quel peso di lui, è un arrampicatore, vedete, fortissimo pandino, quindi tanti me li avete chiesti, ne hai degli altri, questa è un'altra cucciolata, oltre il video che avete visto degli ultimi, questi sono quasi tutti bianchi con gli occhi cerchiati, sono veramente buonissimi, occhi azzurri, cerchiati vedete all'egistiana, sono veramente buoni, questo è un pandino, guardate che bello, questo è panda, un altro panda, sono piccolissimi, guardate, non sono ancora, hanno 50 giorni, è giovedì hanno il vaccino, se ne sono di più piccoli, questo è veramente microscopico, vi dico solo che lui non ha neanche 300 grammi, gli hanno 55 giorni, fanno fedi i timbre del veterinario, non le mie parole, perché io non sono medico, tutto coi timbri, gli cediamo a 60 giorni, con il libretto sanitario, naturalmente fatto dal veterinario, non mordono il telefono, perché sono impiccioni, impiccioni, chi vuole dei coniglietti impiccioni, loro sono conigli impiccioni, conigli coccoloni, e sono veramente buoni, qua abbiamo una specie di scricciolo, sembra uno scoiattolo, adesso le colorazioni possono variare, ne avevo uno lì, bellissimo, mai prenotato, non ve lo faccio vedere, e occhi verdi, oltretutto, sono veramente buonissimi, sono coniglietti testati in Spagna, mini toinani, veramente non è in italiano che arriva anche a due chili, sono veramente da famiglia, per i bimbi, quindi ne diamo tantissimi per la pepterapy, e niente, si cedono appunto con il libretto sanitario, completo, quindi sverminati, vaccinati, e quando la visita ci tengo a dire della buona salute, quindi prima vengono vaccinati, quindi orecchie, naso, denti, perché è fondamentale i denti per evitare soprattutto il problema del morso inverso, quindi conigli che vengono visitati due volte dal veterinario, prima di raggiungere, lascia stare il telefono, vedete, era qui che mi stava per morire, prima di raggiungere le vostre case, la prima volta quindi vengono sverminati, analisi delle fezze sverminati, e la visita, la seconda, discrezione del dottore, naturalmente chi mi segue lo sa, 7, 8, dopo massimo 10 giorni, si effette il vaccino, combinarmi xoma, noi lì cediamo col combinarmi xoma, e sono fantastici, da famiglia, sono cuccioli per i bambini, buonissimi, questo è un sottotaglia, ve lo dico perché io lo chiamo scricciolino lui, se mi volete far capire chi è questo è scricciolino, non sappiamo ancora il sesso, è sottotaglia, 55 giorni e 300 grammi, questo è uno di quelli che da adulto non arriva a 900, rimane molto molto più piccolo, adesso hanno sonno, perché oggi li ho tenuti fuori, che qui da noi in Romagna, grazie a Dio, dopo l'alarme rosso del tempo c'era il sole, quindi li ho tenuti fuori, e hanno giocato con mia figlia nel recinto, quindi sono veramente stanchi, li vedo stanchi, voi coniglietti che siete attivi, mi ho stancato, ho riuscito a farli stancare oggi, bene, mica tutti, perché ce n'è uno qui da lì, soprattutto per me la femmina, adesso giovedì alle 10 abbiamo il vaccino, quindi li rifacciamo la sensazione, e vediamo se sono maschi femminucce, tutti i cuccioli comunque socializzati, buonissimi, mini toinani, si possono portare naturalmente anche con la pettorina, sono intelligentissimi, vi ricordo che il coniglietto ha l'intelligenza testata del cane, quindi per chi non conosce il coniglio può dire, e tanti lo so che lo pensano, ma sono animali che non capiscono, io in oridissio quando sento questo, in oridissio quando la gente pensa solo agli animali da compagnia, come cani e gatti, il coniglietto è eccezionale, anche perché mi lascia mi stare, mi vuoi lasciare stare, cioè guardatelo, uno che non lo sa, non lo capisce, io è da anni che allevo coniglietti, è da anni che li ho in casa con me, sono animali fantastici, non so, ti danno un amore, non puzzano, perché sento ancora gente che mi chiama e mi dice, ma i coniglietti fanno cattivo odore, cioè ragazzi come voi, se voi non vi lavate, fate la doccia alla sera, fa cattivo odore, i coniglietti non fanno cattivo odore, i coniglietti naturalmente se non li pulite, certo come il cane, come il gatto, ma sono da pulire la loro letterina, noi gli dà una cosa importante, non l'ho detto, ma il coniglio, noi ne abbiamo anche di dieci anni, quando gli sentite il pelo, hanno profumo, profumano, loro profumano sempre, hanno da cipria, non so, hanno un odore che crea dipendenza, questo sì ve lo devo dire, perché hanno responsabilità da lì via, creano dipendenza, i coniglietti si cedono, quindi torniamo ai discorsi, diciamo, importanti che ci tengo, perché visto che fa parte di questo qui del mio lavoro, io li cedo già educati a sporcare solo nel trucciolato di legno, educati vuol dire che non nascono così, ma c'è un impegno da parte nostra, li abituiamo appena nascono a contatto con il trucciolato di legno, che è un prodotto sanificato, igienizzato e depolverizzato, un prodotto fantastico, che anche se in gerito è naturale, non crea problemi, e quindi sono veramente buonissimi, abituati ai bambini, alle persone, ai ritmi della famiglia, e quindi assolutamente cuccioli da famiglia, ok? Cuccioli da famiglia, lui è prenotato, se mi guardi il video lo sai chi? Lui è prenotato, pandino, pandino è prenotato, ce ne sono altri comunque bellissimi, di pandini ce ne sono, lui lo scricciolino, quelli bianchi, total white, con gli occhi blu, possibilità anche di fare la coppia, perché comunque non sono tutti consanguini, questi qui sono i cuccioli di tre mamme diverse, quindi mi vuoi lasciare stare, questo mi mangi il telefono, vabbè adesso lascio perché sennò vi annoio, quindi mi raccomando, i cuccioli non vanno tenuti sempre in gabbia, vedete io li lascio fuori, e questa poi è una gabbia di un metro e sessanta, mi raccomando ragazzi, ok? Conigli è come avere un gatto o un cane, non vanno sempre in gabbia, ogni tanto possono stare, certo, ma non sempre, le tesori di Federica Pia ragazzi contattatemi, contattatemi quando avete anche solo una curiosità, un dubbio e sono qua, perché per me questa è una passione, ciao ragazzi!